La valutazione è che qualcosa sia un bene comune è qualcosa che nasce all'interno dell'individuo questa cosa è bene o è male per me e per noi non solo per me perché lì nasce il germe dell'egoismo il senso di comunità, il senso dell'appartenenza è fondamentale per ridefinire i valori fondamentali della società nella quale viviamo Il mio percorso nasce sostanzialmente con molti anni di volontariato nelle situazioni di emarginazione sociale lì ho incontrato handicappati, detenuti, malati di cancro soggetti gravemente emarginati per una ragione o per l'altra e ho cercato di portare quello che un po' alla volta studiavo per imparare a stare al mondo nei corsi che frequentavo di psicologia transpersonale e quant'altro lì ho messo a fuoco il fatto che le cose che studiavo potevano avere un'utilità ed è stata una palestra importantissima nel senso che lì ho imparato a rapportarmi con i soggetti più diversi adattando ciò che avevo studiato alle necessità del momento in questo momento insieme alla mia compagna sto portando quello che noi chiamiamo spirito di comunità cioè il fatto di ricostruire il senso di un'identità comune il modo in cui portiamo questo tipo di contributo alla società è abbastanza differenziato nel senso che comunità cos'è una comunità? un'azienda è una comunità transitoria per alcune ore al giorno le persone lavorano in un'azienda nei più disparati tipi e casi di comunità noi cerchiamo di risvegliare questo senso proponendo incontri, gruppi, sì certo anche conferenze ma principalmente un lavoro continuativo che svolgiamo nell'arco di uno o più anni per aiutare le persone a tornare a guardarsi in faccia a parlarsi, a parlarsi cuore a cuore quindi a stabilire un rapporto prioritario che non è solo empatico ma è un rapporto di senso qual è il senso della nostra vita e della nostra relazione perché io ora sono qui davanti a te e cosa ci possiamo scambiare cosa possiamo imparare e donare cosa possiamo ricevere cosa possiamo costruire insieme questo lavoro è fondamentalmente un lavoro esperienziale corporeo, gestuale un po' quello che sperimentiamo e viviamo quando siamo bambini noi quando siamo bambini conosciamo e facciamo esperienza del mondo dell'altro, da noi, attraverso il corpo non attraverso il pensiero e le parole entriamo nelle situazioni anima e corpo la mente, intesa nel senso di razionalità arriva per ultima il bambino l'esperienza la fa con tutto il corpo e se non ci mette il corpo non ci può mettere l'anima ed è questo il metodo del lavoro che proponiamo un po' quello di tornare bambini e ritrovare quel tipo di innocenza che riesce a prescindere dall'interpretazione culturale del mondo è un'esperienza totale un rapportarsi all'altro con la profondità e l'innocenza di un bambino di qualcuno che vede il mondo per la prima volta vedere il mondo con gli occhi di Adamo si direbbe il primo giorno della creazione Per me l'Italia che cambia è ritornare a quello che io conoscevo dell'Italia di quando ero bambino un luogo dove le persone sono gentili un luogo dove le persone hanno tempo da spendere con gli sconosciuti incontrati per la prima volta l'Italia che cambia è recuperare quell'innocenza ma ad un'ottava superiore sapendo che potremmo sbagliare ancora avendo imparato come si fa a non sbagliare più quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi